Il risultato del risultato della crisi finanziaria A proposito, è utile soffermarsi sull'obiettivo prioritario che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea assegna alla Banca Centrale Europea, difendere la stabilità dei prezzi, così da preservare il potere d'acquisto della moneta unica. Questo è il maggior contributo che la conduzione della politica monetaria affidata alla Banca Centrale Europea può fornire per la realizzazione di un contesto economico favorevole e di un livello di occupazione elevato. Si parla di preservare la stabilità dei prezzi perché inflazione e deflazione comportano per la collettività costi ingenti di natura economica e sociale. Ma cosa si intende per stabilità dei prezzi? La Banca Centrale Europea ne ha dato la definizione Un aumento sui 12 mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area dell'euro Su livelli inferiori ma prossimi al 2% da mantenersi in un orizzonte di medio termine. La definizione ancora le attese di inflazione e accresce la trasparenza e la responsabilità pubblica della stessa Banca Centrale Europea. Esplicitando la definizione, la BCE ha voluto orientare la pubblica opinione al formarsi di aspettative sull'andamento futuro dei prezzi e offrire un termine di riferimento chiaro e misurabile rispetto al quale i cittadini possano giudicare del suo operato. Infatti, ove l'andamento dei prezzi non risultasse conforme alla definizione datane, la BCE sarebbe tenuta a rispondere e a rendere conto di tale difformità oltre che a spiegare come intende ripristinare la stabilità dei prezzi in tempi accettabili. In proposito, può sintetizzarsi una regola. In caso di eccessiva inflazione, la BCE innalzerà i tassi a breve termine, all'opposto nel caso di deflazione. La definizione dice che la stabilità dei prezzi viene riferita all'intera area dell'euro, pur essendo possibili al suo interno andamenti difformi. Quel che conta è l'andamento del livello medio dell'indice dei prezzi. D'altra parte, questo accade nella conduzione della politica monetaria che agisce sul livello dei tassi a breve. Stabilendo un aumento inferiore ma prossimo al 2%, si chiarisce che sia un'inflazione superiore al 2% sia la deflazione sono incompatibili con la nozione di stabilità dei prezzi. Si è detto che inflazione e deflazione comportano costi ingenti sul piano economico e sociale. La deflazione tuttavia è particolarmente indesiderabile in quanto rischia di radicarsi nei comportamenti dei cittadini. La politica monetaria infatti potrebbe trovarsi nell'impossibilità di fornire stimoli sufficienti alla domanda attraverso la riduzione dei tassi di interesse una volta che abbiano raggiunto lo 0%, quello che sta accadendo in questi mesi. Più ancora, la deflazione è pericolosa in quanto induce a rinviare le decisioni di spesa nell'aspettativa di ulteriori riduzioni dei prezzi con l'effetto di incidere negativamente sulla produzione, sui redditi, sull'occupazione. Ad oggi, la BCE ha adottato significative azioni dirette a contrastare i rischi di deflazione, ma la sola applicazione della regola, la deflazione si contrasta riducendo i tassi, sembra non poter vincere le difficoltà e riattivare le condizioni per la ripresa. Ma quindi al più presto è riconosciuto quanto affermato dal Presidente della Banca Centrale Europea. Non c'è a montare sufficiente di stimolo monetario che possa sostituirsi alle riforme strutturali necessarie. Ma tali riforme sono di competenza dei governi nazionali. Basti in proposito menzionarne la necessità in materia di fiscalità, di concorrenza, di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche, della pubblica amministrazione, di velocizzazione dei tempi della giustizia per riconoscere il caso italiano. In conclusione, è indispensabile comprendere rapidamente che al pari del contributo offerto dalla politica monetaria anche le riforme concorrono a garantire la reputazione della moneta unica e la stabilità dei prezzi, nonché lo sviluppo e la crescita dell'area dell'euro, ma è anche indispensabile agire rapidamente.